Spaventoso incidente questa mattina ad Agropoli, in via Matilde Serao, un'auto stava percorrendo via Giambattista Vico nei pressi dell'Istituto Clinico Mediterraneo, quando probabilmente sbandandosi è ritrovata al ridosso del muro che costeggia via Matilde Serao, urtando contro la ringhiera in ferro, distruggendola e cadendo giù da circa tre metri. L'auto, una Range Rover Bianca, prima di cadere, ha urtato contro un'altra auto ferma nel parcheggio della clinica, ha distrutto i tubi del gas metano e ha urtato contro altre due auto in sosta, in via Matilde Serao, capopolgendosi. Alla guida via era una donna che si è ferita alla testa, probabilmente battendo il capo. Sul posto la polizia municipale di Agropoli, i carabinieri della locale stazione e due ambulanze del 118 ai vigili del fuoco. La donna, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata ricoverata presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Fortunatamente non è in pericolo di vita.